Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale, cliccando il cassino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite che vi aspetto anche su Instagram, MickeyMakeup79 e come al solito sotto all'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social mi raccomando su Instagram ci sono delle stories importanti perché non faccio più Avon ho iniziato a lavorare con una nuova azienda e quindi lì nelle stories vi spiego tutto c'è il link diretto, se mai lo lascio anche nell'info box, il mio shop dove poter acquistare profumi, make up ci sono un sacco di offerte carinissime, i prodotti sono fantastici ho appena fatto anche un ordine che presto vedrete anche sul canale comunque sotto all'info box lascio anche il link del mio shop quindi aprite sempre l'info box allora video su profumi, questa volta parliamo di altri profumi che sono dupe comunque o limitazioni dei profumi un po' più famosi anche questi costano davvero pochissimo perché 3,99 euro è il prezzo che si aggira intorno a queste profumazioni io in questi giorni ho ricevuto due set mi regalo uno, sto parlando dei tesori d'oriente uno è questo set qui che all'interno c'è appunto le de parfum e la saponetta la saponetta aromatica uguale alla fragranza che troviamo all'interno questi stanno da risparmio casa, queste box diciamo a 8 euro, una cosa del genere ne ho ricevuti due uno è Hammam e l'altro invece è il muschio bianco e ho scoperto che questo è il dupe di un profumo abbastanza famoso e in più ce n'ho anche un altro che è questi sono profumi aromatici questo è vaniglia e zenzero del Madagascar anche questo è un dupe mentre il muschio bianco no comunque dentro ai kit appunto troviamo saponetta e profumo questo appunto è il muschio bianco e la saponetta ovviamente è della stessa profumazione mamma mia buonissimo, super forte adesso, allora vediamo se li trovo su fragranti poi vi dico anche di chi sono i dupe allora, tutte le profumazioni dei tesori dell'Oriente sono state create tra il 2010 e il 2019 ce ne sono in tutte, dovrebbero essere circa una trentina di profumazioni quindi c'è Egyptus, Africa, Ambra Indiana, Ayurveda che ce l'ho avuto e è buonissimo insomma tantissime veramente tante appunto sono di un po' comunque imitazioni delle profumazioni un po' più famose poi vi dico di cosa tanto voglio vedere se ci sono queste qua che ho io il muschio bianco c'è vaniglia e zenzero del Madagascar c'è vaniglia e zenzero e anche questo ok ci sono tutte direi di cominciare da l'unico che ho senza il set che è appunto vaniglia e zenzero del Madagascar e questo qui è unisex quindi è per donna e uomo allora eccolo qua gli accordi principali sono legnoso vanigliato speziato fresco talcato balsamico e ambra allora vaniglia e zenzero del Madagascar di Tesori d'Oriente è una fragranza del gruppo orientale legnoso unisex le note di testa sono bergamotto e zenzero le note di cuore sono legno di palissandro orchidea e langhi langhe le note di base sono vaniglia sandalo cedro ambro ambro ambra perché in questo periodo sto guardando Sabrina quindi c'è ambro ambra muschio e legno di cashmere allora è buonissima buona 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 vi dico subito il dupe dicono che il dupe di queste profumazioni sia ne hanno messe due Madagascar di Kenzo e anche Armani Code di Giorgio Armani ovviamente semmai comunque sotto nell'info box ve lo scrivo ve lo lascio sempre scritto è davvero buonissimo si sente che è una profumazione portabilissima anche dall'uomo perché ha questa parte legnosa che comunque è forte si sente e ha questo aspetto anche un po' mascolino che comunque mi piace ha questo aspetto comunque balsamico dovuto anche dal bergamotto e lo zenzero che io chi mi conosce sa adoro follemente la parte che lo rende anche adatto alle donne sicuramente sia per quanto riguarda il cuore che troviamo l'orchidea però è sempre una parte floreale che sta bene appunto anche agli uomini e poi troviamo comunque anche la vaniglia che gli dà questo aspetto comunque leggermente dolce senza essere comunque se era troppo dolce ovviamente non poteva indossarlo un uomo invece c'è una dolcezza comunque delicata che sta bene appunto anche all'uomo quindi è davvero molto buono sono profumazioni comunque che non durano tantissimo però voglio dire costano anche 3,99 euro poi spesso le mettono anche in offerta quindi è possibile trovarle 2,99 ecco mettono queste box questi tipo di cofanetti dove comunque li paghiamo ancora di meno il prodotto più inabbinato o qualcos'altro che è associato alla profumazione quindi voglio dire ma questi cavoli sono anche fatti il pecca e il latta quindi è molto essenziale possiamo anche tranquillamente portarlo con noi quando serve spruzzarlo poi ovviamente ce ne sono alcune che durano molto di più tipo io mi ricordo che quella Ayurveda dura davvero tantissimo infatti voglio riprenderla questa comunque è molto buona davvero particolare come profumazione non adatta a tutti ovviamente a chi come me ama i profumi che sono un po' mascolini nel senso che sono particolari questo si sente tantissimo lo zenzero, la vaniglia e comunque si sente anche un po' l'orchidea poi dipende anche dalla pelle dal pH della pelle magari in un uomo riesce a tirare fuori più la parte maschile io lo sento perlomeno su di me si sente questa parte floreale dolce, buona che mi piace davvero tanto quindi buonissimo e ve lo consiglio provatelo perché è davvero ottimo poi adesso passiamo al muschio bianco che è l'unico che non ho trovato non è cioè non associano a nessuno non dicono perlomeno che è un dupe di qualche profumo famoso però comunque vi leggo comunque le note perché è buonissimo anche questo questo è da donna quindi muschiato talcato aldeidato ambra e floreale bianco white musch di tesori d'oriente è una fragranza del gruppo orientale da donna le note di testa sono aldeidi gelsomino e fiori bianchi le note di cuore sono petali di rosa e note talcate le note di base sono muschio bianco note legnose ed ambra è un profumo buonissimo anche questo la saponetta pure è un profumo pazzesco è particolarissimo io ci sento tantissimo la parte talcata al suo interno e questo è un profumo per me che si può portare benissimo anche la sera dopo la doccia per andare a letto che ti dà questo aspetto comunque di biancheria pulita di fresco profumo che ti accompagna e ti aiuta anche nel relax della notte che non è un profumo forte che quindi può dare fastidio per andare a dormire anzi è molto delicato è buonissimo comunque perché si sente anche la parte del floreale bianco che gli dà comunque femminilità intensità è davvero molto molto carino peccato che non è un dupe di nessun profumo però ve lo consiglio comunque e appunto per le sere invernali quando stiamo a casa o la domenica quando stiamo a casa dopo una bella doccia calda o un bagno caldo un po' di questo addosso comunque rimane bella profumata sensuale anche in casa e senza dar fastidio perché comunque è come vi ho detto una profumazione davvero molto delicata e bella fresca però questa parte comunque ha questa base che è comunque abbastanza legnosa che comunque gli danno calore e lo rendono comunque avvolgente davvero molto buono e bello anche questo e anche la saporita è buonissima e poi adesso passiamo all'ultimo lo cerco su fragrantica e poi vi dico anche ho avuto anche marrakesha ambra e zafferano e anche quello era davvero buono e particolare eccolo qua hammam appunto e di questo ho avuto anche il burro corpo eccezionale anche quello e ho avuto anche adesso è uscito anche il ammorbidente fantastico anche quello quindi ve lo consiglio allora aspettate che lo trovo per dirvi chi è il dupe che non mi ricordo allora dicono che sia il dupe di cinema cinema non so come si pronuncia di Yves Saint Laurent allora gli accordi principali questo qua è anche un profumo unisex che può essere indossato da donna e uomo gli accordi principali sono agrumato floreale bianco dolce floreale e vanigliato a mamma di tesori d'oriente è una fragranza del gruppo orientale unisex le note di testa sono mandarino limone e fiore di mandorlo le note di cuore sono fiore d'arancio e gelsomino le note di base sono vaniglia note legnose ambra e muschio allora questo mi piace da morire come vi ho detto ho provato anche la crema corpo che ovviamente è usata dopo la doccia e ne aumenta la persistenza della profumazione è un modo anche per far durare più i profumi infatti questi qua che sono un po' più economici che durano un po' di meno io vi consiglio sempre se volete comunque di acquistare appunto anche la crema corpo così la mettete prima e magari se potete anche il bagno doccia non so se si trova di queste linee sinceramente però magari di profumi un po' più economici si trova sempre quindi usate il bagno schiuma la crema corpo più il profumo sicuramente dura di più ma questo è buonissimo veramente buono 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 molto molto intenso tra tutti sicuramente quella un po' più delicata è questa qui al muschio bianco questa è fantastica è buonissima si sente appena struzzato tantissimo la parte agrumata comunque data dal mandarino e dal limone che troviamo nella note di testa nel cuore invece troviamo il gelsomino e poi troviamo nella base la vaniglia e le note legnose l'ambra e il muschio che gli danno comunque intensità lo rendono davvero molto avvolgente come profumazione è fantastico io ci sento tantissimo anche il fiore d'arancio ha sempre questa parte un po' di freschezza all'inizio che mi piace da morire dopo un po' scende in questa base che è davvero calda intensa che adoro veramente è un profumo che mi trasporta un po' nelle terre orientali e caldo quindi comunque una profumazione appunto che ricorda un po' il nome del brand che li crea dei stori d'oriente mi riporta proprio in quei posti d'oriente meravigliosi e è un profumo molto intenso comunque su di me si sente tantissimo la parte femminile e su un uomo non so sarà il mio naso lo sento molto più per una femmina che per un uomo a differenza di questo che può essere portato anche dall'uomo questo mi sembra molto più femminile sinceramente parlando è davvero molto intenso e bello in questi giorni me lo sto mettendo è qualcosa di super sensuale per me quindi mi piace davvero tanto tra tutti e tre quello che preferisco l'avrete capito sicuramente anche dalla mia descrizione e voglio sicuramente provare ce ne sono altre che voglio provare e come li trovo poi magari ve ne parlo in altri video vi dico anche di chi sono i dupe perché ce ne sono alcuni che sono i profumi originali li voglio tantissimo quindi per ora intanto prendo i dupe così ve ne parlo e vediamo un attimo poi se è realmente così io non ho trovato i dupe di questi li ho trovati online perché comunque questi sono video che si fanno tantissimo ci sono tante ragazze io non ho copiato a nessuno non ho visto nessuno che li ha fatti io ho soltanto trovato su google la scheda e anche su fragranti che si trovano i dupe appunto ti dice i nomi dei tesori d'oriente a chi sono somigliati insomma comunque sono profumi che mi incuriosiscono molto costano poco reperibili un po' dappertutto perché davvero li troviamo acqua e sapone ticotà io l'ho comprato questo da ticotà 3,99 e gli altri due da risparmio casa i set comunque si trovano davvero dappertutto pure i cinesini ce l'hanno quindi profumi irreperibilissimi che costano poco comunque buoni che sono intensi poi come vi ho detto il pack è davvero molto essenziale quindi anche se non durano tantissimo ce lo portiamo in una borsetta neanche pesa quando serve questo è buonissimo questo è proprio intenso super femminile lo adoro mi fa impazzire veramente infatti voglio andare a sentire anche il cinema di Vestan L'Ora per sentire appunto sì è vero che la somiglianza perché questo è fantastico lo adoro davvero molto intenso e sensuale quindi questi erano i miei profumini dei tesori dell'Oriente io come al solito spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia soprattutto mi raccomando se è stato così mettete un bel like iscrivetevi se ancora non l'avete fatto mi raccomando vi aspetto anche su Instagram tante stories appunto per quanto vi ho detto per il nuovo lavoro che sto facendo con questo brand che vende prodotti di skin care make up profumi ho preso anche un profumo con loro e poi quando mi arriva il pacchetto magari facciamo lo spacchettamento vi faccio vedere tutto poi metteremo tutto alla prova comunque sotto nell'info box vi lascio il link del mio shop io spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia un bacione se vi faccio ci vediamo la prossima volta ciao ciao ciao